comunque bici su ultimamente sono poco presente sui social perché sono un po demoralizzata dall'umanità non saprei senza dare nei dettagli ma veramente tra il corone e mille sfighe veramente non so cosa dire non so veramente cosa dire detto ciò mi è arrivato il pacco ieri dei libri parlando di cose belle questo è veramente bello pare che il mio libro stia facendo il boom di vendite sono contentissima sono anche nominata i mtv award quindi sono ancora più contenta perché secondo anno che vengo nominata quindi parliamo solo di cose belle ok adesso io faccio dell'album il libro sto spaccando tutto guardate ma ve lo faccio vedere è arrivato ieri che bello è morta 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 adoro non vi farò mai vedere niente cosa c'è però è molto figo guardate che c'è daddy oh my goodness presenti 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 Grazie a tutti